donne che abusano degli uomini sfatiamo una volta e per tutte un mito che non esiste la donna abusante che non esistono abusi perpetrati ai danni degli uomini sfatiamo una volta e per tutte questo mito la donna abusante esiste la ragazza abusante esiste e vi posso assicurare che anche gli uomini possono serenamente essere vittima degli abusi delle donne e sia chiaro non parlo necessariamente di abusi fisici che per quanto possano essere più rari vi posso assicurare esistono e ci sono tantissime storie che potrei portarvi come esempio ma parlo soprattutto di abusi psicologici è ora di smettere di pensare che sia soltanto l'uomo ad essere abusante nei confronti delle donne fate un esperimento e capirete come la società è convinta che sia l'uomo ad essere sempre il carnefice andate su google immagini e digitate abuso narcisistico silenzio punitivo e guardate che immagini spuntano la totalità delle immagini mostrerà stereotipi di uomini che perpetrano abusi sulla donna è ora di smetterla l'abuso non ha genere la cattiveria non ha genere gli abusi sono abusi sia che vengano dagli uomini sia che vengano dalle donne è ora di finire di pensare che esista soltanto l'abuso maschile che esista soltanto l'uomo come bestia e la donna come vittima guardate che non è così gli abusi da parte delle donne nei confronti degli uomini esistono e ripeto a dire non saranno abusi di natura fisica ma spesso sono abusi di natura psicologica e vi posso assicurare che anche l'uomo soffre del ghosting fatto dalle donne anche l'uomo soffre di condotte narcisistiche da parte delle donne perché per quanto non si voglia guardare in faccia la realtà anche la donna può avere tratti narcisistici anche la donna può comportarsi negativamente nei confronti dell'uomo e farlo soffrire ma sono stanco sono stanco dello stereotipo secondo cui sia l'uomo sempre a perpetrare abusi perché perché si considera che l'uomo è più forte e più forte psicologicamente e più forte fisicamente o forse volete che incominci a portarvi gli esempi di tutte quelle donne che perpetano regolarmente e con cadenza regolare abusi di natura psicologica nei confronti degli uomini no perché esistono ed è ora di smetterla di metterci paraocchi di mettere la maschera la maschera del buonismo la maschera dello stereotipo secondo cui l'uomo è brutto sporco e cattivo no esistono anche donne cattive esistono anche donne senza alcuno scrupolo e ve lo posso assicurare anche l'uomo soffre l'abuso psicologico perpetrato dalle donne e vorrei iniziasse ad essere normalizzata questa cosa e vorrei che la società iniziasse a comprendere che questa è una realtà da prendere in considerazione sono stanco di cercare un'immagine su google per partner narcisistico ad esempio e vedere soltanto immagini di uomini che abusano di donne ovviamente in senso psicologico sono stanco e mi fa paura credere che la società non veda altro se non l'uomo secondo questa categorizzazione l'uomo è sempre carnefice la donna è sempre vittima ma dove sta scritto ma chi l'ha detto no perché potrei portarmi decine e decine e decine di esempi e sinceramente mi sarei anche un po stancato perché posso comprendere che esistono uomini che sono delle vere bestie lo posso comprendere ma vi posso assicurare che esistono donne che sono molto cattive spietate senza cuore che non sentono alcun dolore nell'infierire contro gli uomini nel far male agli uomini e credetemi è una realtà che è ora di iniziare a guardare in faccia nulla di personale contro le donne sia chiaro perché so che inizierà già la polemica nulla di personale ma da uomo sono stanco anche di non essere tutelato anche di vedere uomini che subiscono abusi psicologici vere e proprie torture da parte delle donne e non vengono mai tutelati anzi spesse volte si arriva anche a giustificare e mi dispiace ma la cattiveria e le persone di questo tipo non sono mai giustificabili di qualunque sesso esse siano grazie per aver ascoltato questa nuova puntata di pensieri frasi ed emozioni il podcast del bar giomba io vi aspetto come sempre su www.ilgiomba.it seguitemi su instagram a ilgiombagram seguitemi su twitter seguitemi sui miei social vi aspetto e come sempre a tutti voi un caldo saluto ciao